Ancora oggi, nonostante ci sia l'investitore che conferma la volontà di intervenire, nonostante la situazione in qualche modo tende ad aggravarsi, anche se è rientrato General Finance con la finanza d'emergenza, ancora non siamo giunti all'accordo e quindi abbiamo ribadito alla proprietà che non c'è tempo da perdere. Ancora a fiato sospeso per le sorti della Vertanza Fimer, l'azienda di Terra Nuova Bracciolini specializzata in prodotti per il fotovoltaico. Ci sono 280 persone che per la nostra comunità valdarnese vuol dire tantissimo, sono 280 famiglie. Sulla base di questa responsabilità noi stiamo continuando ad agire con tutti gli strumenti che ci vengono dati. Questa mattina fuori dai cancelli due ore di sciopero, mentre all'interno dello stabilimento valdarnese si è svolto l'incontro tra i rappresentanti dei laboratori, la regione, il comune di Terra Nuova, il CDA dell'azienda e Greybull McLaren. Manca infatti ancora oggi l'accordo tra le parti. Il Consiglio d'amministrazione ci dà delle date. Loro domani presenteranno al Tribunale istanza per l'autorizzazione dei 10 milioni e insieme all'istanza presenteranno le linee guida del nuovo piano concordatario. Il piano concordatario nella sua interezza dovrà essere presentato entro il 31 di maggio e dentro il 15 di giugno dovrà essere trovato da una parte l'accordo con McLaren e dall'altro ci deve essere già l'iniezione da parte dei 10 milioni. A fronte di queste date che ci dà il Consiglio d'amministrazione noi abbiamo dato la nostra invece scadenza e data che è quella il prossimo mercoledì mattina alle 10 rifacciamo un incontro. Siccome già anche oggi alcune divergenze tra McLaren e il CDA sono state risolte e è stato fatto un passo avanti per poter arrivare all'accordo non c'è più scuse. Il nodo della questione è infatti legato ai 10 milioni di euro che il colosso inglese si è impegnato a versare per far ripartire in sicurezza allo stabilimento ma il gruppo Grey Bull McLaren vuole garanzie. Io confido che dopo le responsabilità macroscopiche che si sono assunti trascinando questa azienda nella situazione in cui versa non si vogliano assumere la responsabilità delle responsabilità. Cioè quella di mettere una pietra tombale su una vicenda che non se lo merita. Io sono certo che non intenderanno assumersi questa responsabilità. Nel caso noi vigileremo. Grazie.